La grave crisi occupazionale che si registra a Gela deve essere monitorata con costanza al fine di giungere ad una soluzione immediata. Non c'è più tempo da perdere, lo dice il Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia. Le istituzioni devono fare la propria parte ed è importante confrontarsi. Ed è per questo motivo, dice il Presidente della Sisa Civica, promuovere incontri, tavoli tematici con gruppi di lavoro specifici. Il Consiglio Comunale per questo recentemente ha voluto fortemente la costituzione di un gruppo di lavoro al quale fanno parte tutti i consiglieri capigruppo del Consiglio Comunale che vede presente anche l'amministrazione. Questo è un momento epocale molto importante per la nostra città perché sono in arrivo e siamo in attesa dei finanziamenti per il nostro territorio come appunto il Patto per il Sud, lo stesso protocollo d'intesa ancora da attuare e le stesse compensazioni minerali. Per questo motivo è stato creato questo gruppo di lavoro tematico che vedrà i consiglieri comunali che terranno in maniera molto stretta l'amministrazione per avere informazioni sempre più aggiornate per dare risposte appunto a questo territorio martoriato da una massiccia disoccupazione che purtroppo vede coinvolti non solo i giovani in cerca di lavoro e quindi di creare il loro futuro ma anche padri di famiglia che devono fare i conti con le spese pronto familiari. E al tavolo parteciperanno anche gli operai che hanno perduto il posto di lavoro? No, per quanto riguarda invece gli operai, lo scorso Consiglio Comunale una massiccia rappresentanza dei lavoratori è stata presente in Consiglio dove ha chiesto ad alta voce quella che è la costituzione di un tavolo dedicato a loro e dedicato appunto alle problematiche che riguardano i lavori dell'indotto e questa attualmente è inserita all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale riguardo alle mozioni e insomma faremo là i conti con questa mozione e quindi la creazione di un ulteriore tavolo. Un tavolo aperto anche agli imprenditori? Attualmente vede coinvolti i capigruppo e l'amministrazione oggi abbiamo permesso l'ingresso anche all'Associazione Nazionale Costruttori Edili che con molto piacere devo dire ci ha inviato una nota dove ci ringraziava e ringraziava il Consiglio Comunale per questa rodevola iniziativa e ha chiesto di partecipare quindi abbiamo visto il loro ingresso e colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro e quindi altre associazioni e organizzazioni che se vogliono appunto entrare a far parte di questo gruppo di lavoro e dare il loro contributo per noi sicuramente è un arricchimento importante perché è necessario in questa fase quello che è un coordinamento di tutte le risorse presenti nel nostro territorio.